ma per le vere amanti della casa per le amanti della pulizia quella vera allora pensateci cos'è che porta lo sporco in casa vostra pensateci voi pulite tutto il giorno però le scarpe l'esterno entra per forza e allora zerbino assorbente zerbi magic ce l'abbiamo qui per te qui per voi per la vostra famiglia allora che mestiere fai qualsiasi mestiere tu faccia anche se lavori nel luogo più pulito del mondo quando tu torni a casa le tue scarpe sono sporche tu le pulisci un po nel tuo zerbino prima di entrare naturale però come facciamo non riusciamo a fare una pulizia vera e profonda signori questo oggetto assorbe pulisce il 70 per cento in più di qualsiasi altro zerbino di qualsiasi altro zerbino e lo potete avere voi comodamente a casa vostra con zero spese di spedizione zero spese solo pagate l'oggetto che arriva a casa vostra con tantissima comodità 15 mila microfibre esclusive al lavoro per pulire la suola delle vostre scarpe prima che entriate in quello che deve essere è il tempio la casa deve essere come un tempio pulito voi che ci perdete delle ore a pulire i pavimenti perfetto per chi ha animali e bambini naturalmente noi mamme lo sappiamo benissimo che quello che portano i nostri figli dopo essere stati al parco in giro questa è la soluzione zerbino assorbente zerbi magic e butta via lo zerbino che in casa prendilo ora buttalo dalla finestra guarda che non ci sia nessuno sotto e buttalo fuori fai entrare in casa tua questa novità meravigliosa questi 15 mila microfibre esclusive che saranno al lavoro sono per te e per la pulizia di casa tua grazie 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 grazie